ciao a tutti ragazzi bentornati qua su vanessin tv allora ragazzi questo qui sarà il primo video del nuovo palinsesto first contact ne abbiamo fatti anche già altri come vi ho già spiegato nello scorso video che sicuramente avrete visto prima di questo e però adesso ho voluto appunto cambiare il nome del palinsesto e quindi questo qui sarà ufficialmente il primo gioco somebody will return appunto sarà il primo gioco del nuovo palinsesto first contact allora ragazzu intanto vi voglio un po parlare del gioco gli sviluppatori sono la software cbe e come editore sempre software cbe allora il gioco è uscito sia per cioè in arrivo sia per xbox one per ps4 naturalmente un po più avanti uscirà per ps4 xbox one nel 2020 mentre è stato appena rilasciato appunto per pc allora vediamo un pochettino di che cosa parla intanto il gioco naturalmente si sono dei will return cioè un giorno tornerai dove sei stella non è la prima volta che scappi ma io mi sento disagio questa volta ti senti mi sento così diverso molto tempo fa ho giurato di non tornare mai più qui e ora lei ti ha trascinato indietro la tua ricerca conduce nelle profondità delle antiche foreste della moravia e rivela segreti che avrebbero dovuto rimanere sepolti mentre la tua capacità di sopravvivenza e la tua astuzia potrebbero far avanzare la tua ricerca forze malevole si liberano contro l'età ci sono incubi che non puoi combattere e vincere il tuo personaggio è daniel il padre di stella che è costretto dagli eventi a tornare in un posto ha giurato di non tornare mai in questo posto nella foresta incontra persone peculiari che lo aiuteranno a capire il vero motivo per cui stella continua a scappare restituirai concetti intimi di paternità paure bugie e rifiuto di accettare il proprio passato mentre la storia contiene forti elementi horror non sono sempre i mostri più evidenti a essere i più spaventosi ok ragazzuoli ok bando le ciance perché veramente voglio di giocarlo vi dico già che il gioco in inglese quindi nel senso cioè giocheremo in inglese però è abbastanza facile capirlo quindi andiamo abbastanza tranquilli dai allora ragazzuoli bando le ciance come dicevo e iniziamo allora gioco come vedete in inglese o in cieco ok va bene ragazzuoli dai vediamo un pochettino com'è new game già l'immagine mi piace tantissimo attenzione aspettate un secondo che come al solito l'audio è bassino non so perché l'abbassato un po' però vabbè passiamo un po' magari solamente la musica e i suoni mentre la splash volume anche dai facciamo così ok vediamo un po' ragazzuoli intanto mi sembrava la voce femminile quindi non siamo il padre magari siamo la figlia in questo momento vediamo un po' attenzione intanto ragazzi è un gioco in prima persona qua non c'è niente ultimamente tendono molto a fare orco giuda aspetta giù di qua ok mizzica ragazzi mi sto già cagando sapete come sono fatto io sui giochi horror speriamo che non ci vengano subito incontro no di qua non si può andare vedremo un pochettino guardate che parte strana con tutte queste gabbie che cazzarola era orco giuda ragazzi ok ok andiamo giù di qua spero di andare in un posto giusto ragazzi ok penso di sì forse ci siamo attenzione salvataggio addirittura mi ha dato aia attenzione ragazzi cos'è quella cosa che ha inquadrato attenzione oh cazzo sta arrivando qualcuno ah iniziamo bene ragazzi attenzione iniziamo proprio bene il gioco the panel of mind alternates between sense and nonsense not between right and wrong cg young attenzione oddio così sembra tantissimo voler witch sta cosa qua ok direi che adesso stiamo proprio chiamando nostra figlia stela ma quanto pare non riusciamo a rintracciare attenzione ida ah questa qui deve essere la moglie probabilmente o l'ex moglie ah ma volete vedere ragazzi che forse infatti vedete che c'è scritto track aspetta ragazzi mi dico che cosa penso aspettate perchè l'audio è alto aspetta ragazzi Grazie a tutti. Allora ragazzi, stavo dicendo, mi sa che stiamo tracciando il telefono di sua figlia, perché track, vuol dire tracciare, quindi direi che stiamo tracciando qualcosa. Ma è una persona? Cioè sembra una persona qua? No, è una roccia. Ok. Fa più rumore il mio computer che la macchina, è incredibile. C'è un reattore come computer io tra un po'. Sì, direi che stiamo praticamente tracciando sua figlia. Attenzione, chi è sta qua mo'? Can I help you? Hello, can you, can you hear me? No, 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 can you hear me? Questa che faceva molto, avete presente? Non so se avete presente... Le colline hanno gli occhi? Le colline hanno gli occhi? Ma pochissimo. Ok, non posso far molto. Posso toccare qualcosa? No, niente. Siamo ancora, diciamo, nella parte. Attenzione, mi sa che adesso non possiamo più andare in macchina e dovremo scendere. Tanto per cambiare, ragazzi, perché naturalmente noi ci stiamo già caccando in mano e quindi... Ok. Eh già. Eh sì, infatti. Ah, ok. Quindi sua figlia si è fermata, attenzione. Quindi per cui infatti lui era contento perché finalmente potrà vedere dove caspita è andato. Quindi sta ragazza praticamente non è andata a scuola. The wood are lovely. The journey started. Ok. Quindi sta ragazza praticamente non è andata a scuola ma bensì è venuta direttamente qua. In un posto tra l'altro sperduto. Come caspita ci è arrivato che lui ci ha dovuto fare 700.000 km in macchina. E' quello anche che vorrei capire. Ok. Il gioco è molto... Vai lì, fai così, fai cosà. Aspetta che però... Volevo vedere se c'era ancora qualcosa da prendere in macchina, no? Eh, ok. Doviamo penso cliccare su... Ah, dobbiamo alzare questo qua, ok. Probabilmente allora forse poi alzando questo possiamo continuare con la strada. Ah, ok. Dove dobbiamo camminare quindi. Va bene. Va bene, va bene. Vediamo un po'. Oh, che c... Ma porco Giuda. E mi sa che non torniamo più indietro, sapete? Con sta macchina. Vabbè. Speriamo che in qualche maniera di tornare indietro, ragazzi. Comunque ripetisco, sta scena così, cioè... Tralasciando che non abbiamo il cane, ma mi ricorda tantissimo Blair Witch a sta cosa qua. Però già è intrippante comunque, attenzione. È molto intrippante già il gioco. Ecco, mi piace già l'immersibilità che ha questo gioco qua. Ok. Direi di andare avanti semplicemente seguendo questi... Questi cosini. Aspettate un po'. Vediamo un po' se possiamo richiamarli inventari in qualche maniera. Tutorial inventory. Il che non c'è sicuramente è by pressing E. Oh, immaginavo. Ok. Ok. Possiamo ruotarli esattamente come Resident Evil. Ok. E combinarli. Perfetto. Adesso ne abbiamo per il momento. Questo. Che si può anche aprire. Attenzione. Ah, è la foto... Ok. Della figlia probabilmente di appunto di sua moglie. Della sua ex moglie. Di sua moglie. Non si capisce bene. E poi abbiamo il cellulare. Ok. Al momento non abbiamo nient'altro. Journal. Find Stella. I should track Stella. Ok. Sì. Infatti qua sta dicendo praticamente che ha tracciato il cellulare di Stella. E quindi vediamo un pochettino. Per riportarla diciamo a casa. Nota letter bookmark tutorial. Collezionabili. Ah, ci sono anche i collezionabili. Attenzione ragazzi. Ok. Madonna. Che rumori. Qua c'è un picchio che sta picchiettando come un dannato. Cos'è? Piripicchio. Visto che ci sono anche dei... Diciamo... Dei collezionabili. Magari mi conviene anche guardarmi un po' intorno ragazzi. Giusto così. Per sfizio diciamo. Magari poi non trovo niente. Però... Controllare non ci costa nulla. Non sta scattando il gioco. Sono io che sto muovendo malissimo il mouse eh. Ve lo dico già. Perché il gioco in realtà mi sta dando fluidissimo. E... È incredibile. È la madonna. Cosa sta facendo sto picchio? Porco Giuda ragazzi. Non lo so. Sì comunque veramente qua ricorda tantissimo. Ma proprio tanto... Blair Witch. Questa parte qua. Però è giorno. Tab. Ok. Tutorial using phone. Prende tab. You can use your phone. Ok. Sì basta semplicemente cliccarci sopra. Ok. Siamo a 542 metri a quanto pare da sua figlia diciamo. Va bene. Due nuovi messaggi. Euro current account balance di 784 KC. Ok. Loiza. Where... Where the hell are you? Ah possiamo rispondere. You expect when I'm back. Non have your business in your... Loiza non è... Loiza non è... Scusate... Non è la... 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 Penso sia magari la... La moglie. No aspettate. Ma che si chiamava? Non mi ricordo. Questo... Vabbè proviamo a vedere... Quando torno. Vediamo se gli risponde. No. Non gli risponde. Ok. Torniamo indietro. Quindi possiamo fare i messaggi... Power saving... Ah ok. Non fa nient'altro. Il track... Ok. Che non posso fare nient'altro. Comunque devo andare in giù di là. Messaggi ok. Va bene. Ma basta direi. Perfetto. Ah posso fare anche le chiamate nel frattempo anche. Ok. Via. Naturalmente abbiamo il cellulare... Semiscarico. Perché ricordiamoci ragazzi... Attenzione che... Il cellulare è sempre scarico. Little cross cavadilca. Attenzione. Allora giù di qua noi potremmo andarci. Ma forse secondo me ci bloccherà la strada. Vediamo se ce la sblocca. No. Ci fa andare invece. Scusa. Tecnicamente la nostra fine non è giù di qua però. Giusto? E invece giù di qua? No. Allora proviamo l'altra strada. Scusate. Pensavo... Di aver sbagliato la strada. Allora cerchiamo di andare in su. Vediamo un secondo cosa c'è in su. Perché voglio vedere appunto se si bloccava meno... Il personaggio. Oh. Una freccia. Ok. Al momento è molto walkthrough. Ma è un classico ragazzi. Negli horror all'inizio. Perché comunque bisogna un po'... Oh. Quello che cos'è? Ah ok. Ma cos'è della figlia? Ok. Va bene. Quindi mi ha trovato un nastro rosso. Semplicemente ragazzi. E' di nuovo sto cavolo di picchio. Si naturalmente qua adesso sta un po' incazzandosi con sua figlia. perché stai scendendo. Ma dove caspita sei andata a infilarti. Che poi qua è un classico per che figurarsi. Negli horror poi è così. Comunque tecnicamente qua dovrebbe esserci qualcosa. Tra l'altro intanto da quello che mi sembra di vedere sta anche arrivando diciamo il tramonto. Vedete? Che figata. Eh. Sono troppo vecchio. Lol. Salvataggio. Attenzione. Succederà qualcosa di importante qua. Vediamo un po'. Non è che magari... Aspetta c'è anche una mappa. Ah. Non c'è neanche il segnale qua. Ok. Siamo qua sopra allora. Oh. Attenzione. New location discovered. Ok. Però non abbiamo... Fatemi un po' vedere. Infatti non abbiamo l'applicazione per scoprirlo. Fatemi un po' vedere una cosa. Per sfizio voglio vedere. Io ho l'applicazione QR sul cellulare. Vediamo un secondo se per caso è vero come QR o meno. Mappi, Ciezze, Canuna, Cefa. Sarge. Vediamo ragazzi. Camut, Mappi, Abice, Natura, Intenerari. Ah. Quindi mi volete dire che sto posto qua esiste veramente nella realtà? Che figata. Che figata ragazzi. Se esiste veramente nella realtà questo posto qua. Attenzione. Cioè quindi hanno riproposto un posto. Questo Cazatelna. Hanno riproposto un posto diciamo che esiste veramente nella realtà. Che figata. Che figata. Attenzione. Questo. Uh. Madonna le musiche ragazzi. Mamma mia. Guardate gli uccelli che stanno migrando. Mamma mia. Somebody your return. Ragazzi. Mamma. Mamma mia. Mi sta già piacendo questo gioco qua. Questo è veramente un giocone. Questo qua magari più avanti non adesso ma sicuramente mi piacerebbe continuarlo. Intanto comunque vedetevi questo primo episodio che vediamo un po' anche se vi piace anche a voi ma... Sono sicuro di sì perché veramente a vederlo così sembra un giocone. Ok. Di qua dice fuoco a quanto pare. Quindi andiamo giù di qua. Non siamo andati. Attenzione. Non siamo andati dall'altra parte nell'altra strada. Però... Fai un po' vedere il... Ok. Sempre il nuovo segnale. Eh infatti. Ok. Comunque. Attenzione. Stiamo con... Ho visto che ha salvato quindi sicuramente se salva vuol dire che c'è qualcosa di particolare. Fatemi sempre controllare bene gli alberi che visto che prima c'era un fiocco rosso non vorrei che ci fossero nei mezzo agli alberi e non li vediamo magari. Perché poi è un classico eh. Arrivi sempre in un punto dove... Anche perché immagino che quei fiocchi servono per indicarci dove dobbiamo andare. Qua è sempre che... Sempre non segnale ok. Attenzione. Un fuoco. Ok. Qualcuno che è stato qui recentemente. Altre cose non ne vedo. Direi. Negli alberi neanche. Quindi possiamo dire andiamo avanti. Attenzione. Qua viene spiegato come fare i fuochi. Iose 3916. Attenzione. Forse è una cosa della bibbia. Attenzione. Ok. Ok. Ho capito. Già. QR code discovered place. Ah ok. Qui ci sono 10 QR code. E... 20 posti da scoprire. Questi sono i collezionabili. Ok ok. Perfetto. Perfetto. E allora forse potremmo tornare indietro e vederci dall'altra parte. Però allora questi punti. Salvataggio. Perfetto. Eh si perché noi siamo utilitariamente di qua sopra. Però magari... ... C'era qualcosa che dovevo ancora vedere. non sono anche strumenti, vabbè continuiamo da qua va perché comunque vedo che continua a salvarci quindi probabilmente questa qui è la strada giusta poi quando punteremo diciamo a fare i collezionabili allora sarà diversa attenzione cos'è sto punto di domanda? ah dobbiamo cercare, scusate ho capito adesso dobbiamo cercare qualcosa da utilizzare per poter passare, immagino sia questo qua, immaginavo immaginavo ragazzi che fosse questo sì stavo un po' scusate il termine ripetendo ma perché stavo cercando di capire perché c'era un punto di domanda non avevo capito quello perché la frase che dovevo passare l'avevo capita ma non riuscivo a capire che cosa ah lo prendo in automatico dall'inventario e questo già lo apprezzo molto in un gioco ok ok funzionava di per sé diciamo la... porca puttana mizzi che mi è partito un coccolone mi è venuto, un coccolone ve lo giuro ragazzi un coccolone mi è venuto aspetta ma possiamo utilizzare il cellulare magari? per far luce? no un po' in stile... anche mi sembra che anche in Blair Witch c'è la stessa cosa che potevamo utilizzare appunto il cellulare per far luce ah aspettate che qua c'è qualcosa delle orme però abbiamo sempre il tracking che non funziona eh boh saliamo di qua sopra oh oh un altro di questi qua ok quindi immagino che dovremmo salire su di qua boh proviamo a continuare a salire ci sono due strade però visto che laggiù c'è un altro ecco ne un altro e un altro laggiù ancora ma quanti ne dobbiamo trovare ah non c'è scritto quanti ne dobbiamo trovare ok di questi reach her location I should follow the red trail mark she is not fear from here the tracking sign is up lost time to look for other cruise and tracker down the old way sì diciamo che sembra un po' come se sua figlia o comunque qualcuno stesse tracciando il tutto perché quello non lo identifica vabbè là sopra comunque c'è un altro a priori c'è un altro quindi va bene dovremmo essere diciamo una oh oh attenzione altre tracce ok controlliamo bene che non ci siano altri no a vedere così non mi sembra oh oh lì c'è qualcosa però attenzione oh il cellulare riprende rifunziona il cellulare vai vai Ida ah non prende più il telefono ok sì questa qua secondo me è sua madre comunque gli ha chiesto praticamente dov'era quindi scusate stavo cercando di capire ok vai power saving stavo cercando un secondo di capire che cosa volesse però qua io volevo vedere comunque quel ribbon lì vediamo se me lo fa vedere così no non me lo fa vedere neanche così e qua non c'è niente naturalmente vabbè ok niente andiamo avanti volevo vedere se più che altro mi diceva mi indicava qualcosa tutto lì allora inizia a diventare abbastanza buio il gioco quindi dobbiamo trovare qualche posto dove andare attenzione questo lì sotto c'è qualcosa fermi tutti aspettate però perché qua ho visto esatto questo che volevo prenderlo no non si può prendere che cos'è ma forse è uno di quelli lì che si utilizzano per indicare le strade penso suppongo laggiù che cos'è sta cosa qua aspettate un altro ribbon però aspettate se è di qua c'è l'altro ribbon però laggiù perché c'era quella specie di cosa scritta perché sembra che ci siano parecchie cose qua intorno aspettate un attimo cerchiamo un secondo di capire ragazzi dove dobbiamo andare naturalmente ah ecco un altro QR attenzione un altro QR spring o measy vediamo anche questo qua di QR ragazzi che sono molto curioso sì anche questo qui è un altro posto della mappa sempre di comot che figata che figata ragazzi un measy molto molto balla sta cosa qua già ma queste cose qua mi piacciono tantissimo poi se le mettono diciamo nei giochi ancora di più qua sopra non mi fa andare vero? no perché ho visto che c'era questo quindi vabbè niente andiamo continuiamo ora per la strada dove c'era il fiocco rosso sappiate già ragazzi che qua farò più o meno 40 minuti o almeno finché non arriveremo in un certo punto cercherò di fare tutta questa parte qua così qua sembrerebbe che ci sia qualcosa vediamo un po' ok quanto pare qua è collassato già un bel po' di tempo fa appunto come dice il nostro protagonista e niente andiamo avanti allora qua cosa c'è? dobbiamo tornare diciamo su questo sentiero qua abbiamo trovato l'altro fiocco rosso quindi continuiamo il sentiero secondo me il sentiero è l'ideale da continuare così siamo tranquilli attenzione laggiù c'è un altro fiocco però c'è anche qua un'altra strada che però è chiusa ok e giù di qua si può andare? no quindi diciamo che è abbastanza limitante il gioco ti vuole far andare dove devi andare e un altro e non me lo stavolta non me lo leggi ok ma non è che stiamo facendo giro giro tondo ragazzi perché inizio no ok ma forse non lo stiamo facendo giro giro tondo o se lo stiamo facendo lo scopriremo solamente andando avanti ragazzi qua l'unica è correre poi tra l'altro il problema è anche che se noi ci questi diciamo queste foglie rosse nel gioco pensi che sia il fiocco rosso e quindi ti tendi ad avvicinarti ci sono comunque due strade ragazzi possibili qua c'è però un altro fiocco rosso quindi direi di continuare su questa strada qua ok giù di qua direi che non c'è niente di particolare qua che cosa dove caspita mi porta sta strada questo è un collezionabile cantive wrap ok ok abbiamo trovato un collezionabile non immaginavo che pensavo fosse solamente quelli collezionabili quelli che abbiamo detto prima ok quindi possiamo andare o giù di qua continuare diciamo giù di qua oppure andare quassù vediamo un secondo quassù quassù non ci posso andare ok andiamo ad andare per forza qua sotto allora cerco di co si è sentito una voce femminile attenzione ragazzi e nel frattempo sta sempre più sorgendo il sole il sole scompare ragazzi scusa sta tramontando il sole no sorgendo il sole attenzione c'è un 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 cinghiale attenzione ok ok basta non dobbiamo prendere nient'altro ok beh questo qui non c'è nient'altro direi assolutamente a vederlo così qua non me li fa aprire questi qua naturalmente solo questo mi fa aprire niente vabbè abbiamo trovato comunque delle cesoe tipo sono tipo cesoe non so neanche come chiamarle interessante ok qua intorno c'è altro che dobbiamo vedere tra l'altro questi alberi sembrano veramente inquietanti sembrano tipo delle mani è pazzesco ok boh continuiamo giù questa strada questi punti direi vediamo se c'è altro che dobbiamo vedere bocca ah no quello era il sole ok eh non so che cosa fosse quel rumore mi zica questo gioco qua comunque ti fa fare quella sciolta ragazzi attenzione perché è veramente bello tosto a livello di oh la luce ottimo prendila magari non la prendi no con tutto quello che ah aspetta non è che forse dobbiamo prenderla ma non penso di doverla prendere con queste no infatti non penso di doverla prendere con queste no ok non posso proprio più fare non posso proprio più fare niente ok va bene dove stiamo andando bunker attenzione quindi c'è già stato con stella qua qua però c'è un'altra strada non è che era la strada quella che stavano cercando di fare prima no qua sempre non c'è niente questa qui non vorrei che fosse appunto dicevo la strada che ok no non è la strada che dovevamo fare prima all'inizio probabilmente secondo me all'inizio c'era qualche altro collezionabile da trovare probabilmente suppongo perché poi se giochi qua diciamo che è normale che ci sia qualcosa poi da trovare fare altre strade eccetera figurarsi allora di qua ho capito che dobbiamo entrare lì dentro un secondo solo ok per non farmi sti scatti veloci perché mi fai cacare in mano ok ok apriamo ok abbiamo comprenduto il chapter 1 ah ok ok allora allora ragazzi siamo entrati possiamo anche uscire ok siamo finalmente entrati in questo bunker diciamo una specie di bunker che si trova in mezzo alla foresta boh io direi che per il momento può andare bene così anche perché nel senso immagino che qua e da qua iniziano poi le cose quelle belle intricate fatemi sapere intanto che cosa ne pensate e fatemi sapere se vi piacerebbe appunto vedere eventualmente sul mio canale appunto la serie di questo gioco qua secondo me ne varrebbe molto la pena probabilmente perché mi cagherai in mano conoscendomi tantissimo però boh tanta tanta roba secondo me assolutamente detto questo ragazzuoli vi ricordo naturalmente che come vi dico sempre il gioco naturalmente lo trovate su steam vi dico anche a quanto naturalmente perché è sempre giusto dirvi anche a quanto trovate sempre comunque il link sotto in descrizione mi raccomando allora il gioco costa al momento su steam 29 euro 99 quindi è appena uscito ragazzi naturalmente fatemi sapere che cosa ne pensate ragazzi e alla prossima sempre qua su online sin tv mi raccomando mettete mi piace iscrivetevi e alla prossima ciao ragazzi